Bentornati sul nostro canale, le feste si avvicinano e abbiamo pensato di farvi cosa gradita una ricetta di girelle di pasta sfoglia classiche con prosciutto e formaggio perfette da presentare come aperitivo o come antipasto in queste ricorrenze. Come sempre ricordatevi che tutti gli ingredienti li trovate in descrizione, lasciate un like a fine video e la maggior parte di voi non si iscrive al canale quindi iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati, abbiamo come obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile a 50.000 iscritti quindi iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi se vi piacciono i nostri contenuti. Ma allora partiamo subito con la preparazione, partiamo con il sottolare la pasta sfoglia, a questo punto la pasta sfoglia potete bucherellarla o no pasta sfoglia rettangolare, dopodiché andate a stendere in maniera uniforme il prosciutto mi raccomando anche se sono delle girelle di pasta sfoglia prosciutto cotto alta qualità perché comunque sia ne guadagna sicuramente la portata dopodiché non ci resta altro che andare a stendere il formaggio per quanto riguarda il formaggio noi abbiamo optato per il camoscio d'oro per questa preparazione ma potete optare per qualsiasi altro formaggio a fette che trovate in commercio da provolone dolce il provolone piccante ve lo sconsiglio perché se no avrà un gusto molto molto marcato e andrà a coprire completamente il prosciutto o ad esempio anche del mental tranquillamente dopodiché una volta fatta questa preparazione andiamo ad arrotolare la nostra pasta sfoglia non arrotolate la troppo stretta e datevi una mano con la carta forno in cui è arrotolata la pasta sfoglia e ora prendiamo la teglia da forno e sul fondo adagiamo la carta forno ricicliamo quella in cui è avvolta la pasta sfoglia tanto non ci servirà più dopodiché andiamo a tagliare il nostro rotolo l'altezza delle girelle facciamola a un centimetro e mezzo massimo due non di più se no vengono troppo alte e andiamo a disporle ben larghe e larghe in maniera tale che il calore vada ben tutto intorno alla nostra girelle all'interno della nostra teglia da forno come ultima operazione diamo una spennellata con un po' di latte dato una spennellatina alle girelle questo farà sì che il colore della girella sia più accattivante da vedersi altra alternativa viene un colore ancora più marcato tuorlo d'uovo e una goccia di latte un colore viene ancora più accattivante dopodiché andiamo ad infornare forno statico 180 gradi per 20 minuti mi raccomando le temperature sono sempre indicative controllate la cottura quando le sfoglie saranno ben colorite toglietele dal forno fatele raffreddare e gustatela soprattutto fatemi sapere nei commenti se vi sono piaciute la nostra ricetta finisce qua non mi resta altro che augurarvi buon appetito ciao e alla prossima da Max e Cocco grazie a tutti